ciao ragazzi sono sabino matera ed eccoci qua ogni promessa e debito vorrei mandare un mega braccio a tutti i ragazzi del teatro senza barriere ragazzi mi raccomando tenete duro perché usciremo più forte di prima dopo questa emergenza e organizzeremo una mega festa tutti insieme e io avrò anche l'onore di presentare uno spettacolo meraviglioso insieme a voi ragazzi oggi non sono solo perché con me ho voluto fortemente un mio collega amico fratello perché anche lui scalpita dalla voglia di mandarvi un abbraccio e un saluto guardate che ho portato come nel frattempo ragazzi vi saluto mi raccomando tenete duro ci vediamo presto ciao alici buon pomeriggio se vedete il video di pomeriggio buongiorno se lo vedete di giorno e buonasera se magari sì la state vedendo questo video video che vi giunge da parte di uccio dei santis sono io vi ricordate di me le barzellette quante cose ci raccontiamo io voglio salutare il mio amico sabino matera perché insomma con lui poi ci sentiamo telefonicamente con i messaggi tante volte in una settimana però in maniera particolare più che sabino tramite sabino vi arriva questo video perché voglio salutare proprio voi tutti voi i ragazzi del teatro senza barriere siete ragazzi grandiosi che si danno da fare quando uno si alza la mattina che già sta progettando cosa fare cosa realizzare io penso che sia quella l'arma vincente quindi voi so che avete tanta grinta mettetece la sempre tutta vedrete che tutto diventerà bello e positivo col sorriso poi così va perché è brutto quando ti incontri la gente dice ma no che succede ma no sto tutto incazzato sto triste invece voi beh tranquilli vedete una persona sorridete sorridere una persona penso che sia la cosa più importante guardate anche tutti i miei video i video del mudu così potete anche sorridere anche voi mi raccomando un bacione da parte di uccio de santis a tutti voi grandi ragazzi del teatro senza barriere ciao a tutti vi saluto a voi due grandi attori sabino matea e uccio de santis che voi due insieme al mio grande maestro manco le fazio siete anime speciali mi saluto alle anime speciali del teatro senza barriere uccio de santis e sabino matea grazie per i saluti per i saluti e venite al teatro curci ci chiede noi di aspettiamo con tanta voglia e con tanto amore ciao un saluto speciale al teatro senza pariere a sabino materia e in particolare uccio de santis modulo e rivolgiamo pina per questo saluto a uccio de santis e a sabino materia speriamo di incontrarci al più presto e vi aspettiamo al teatro senza barriere un abbraccio teatro senza barriere mi manchi tanti mi manchi tanto non vedo l'ora di abbracciarvi un saluto speciale a due persone speciali sabino materia e uccio de santis un saluto dal teatro senza barriere e spero di vedervi molto presto un saluto speciale a sabino materia e a uccio de santis vi aspettiamo al teatro corci per il teatro senza barriere buona mattia un caro saluto a sabino materia e a uccio de santis spero di vedervi presto al teatro senza barriere ciao buonasera noi del teatro senza barriere di barletta auguriamo a sabino materia e a uccio de santis un saluto speciale da parte di tutti noi del teatro di barletta saluta saluta a domani a buona Mua, 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 mua.